segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e se d'accordo italo bocchino perché allora ricordiamo intanto che stasera la meloni ha chiamato schlein anche ieri per farle gli auguri e ha detto che l'opposizione sarà durissima al suo governo e che però non teme il confronto e sono due donne diametralmente opposte no dicevamo e quando schlein dice ora il pd sarà un bel problema per giorgia meloni e che leadership sarà allora quella di ellie schlein intanto diciamo è auspicabile che il partito democratico trovi una leadership forte capace di liberarsi da questo abbraccio mortale delle correnti che ha limitato la capacità di incidere dalla sinistra in questi anni e non fa bene al sistema politico un buon sistema politico ha bisogno di pesi e contrapesi la meloni è molto forte a livello nazionale internazionale avere una leader d'opposizione forte può solo far bene la politica visto da destra secondo me è tre volte una buona notizia l'elezione della schlein la prima buona notizia che è stata eletta una donna sulla scia anche da parte del voto popolare della decisione della destra di darsi da anni una leader donna e quindi chi è andata a votare gazebo ovviamente ha detto ma se l'ha fatto la destra perché non lo possiamo fare noi la seconda buona notizia è che è giovane lasciatemi dire secondo me la terza buona notizia che farà del bene al centro-destra dal punto di vista elettorale perché la schlein pone in una situazione molto complicata oggi il partito democratico intanto perché lei i primi tre obiettivi che si è dato è occuparsi di poveri di scuola pubblica e di lavoratori su questo la dobbiamo vedere all'opera perché i poveri credono li abbia conosciuti in vita sua è stata fortunata rispetto a chi come la meloni li ha conosciuti e la scuola pubblica non l'ha fatta perché ha fatto delle scuole private svizzera molto molto costose per famiglie ricche i lavoratori non so quanto riconosca perché non ha mai lavorato a differenza della meloni che ha lavorato nella vita quindi la dobbiamo vedere alla prova può essere una grande sorpresa o può essere un grande problema per il pd perché ma in che senso non ha mai lavorato diciamo non è che come giorgia meloni ha fatto ha fatto la giornalista da ragazza per mantenersi faceva la babysitter ha fatto la barista cioè voglio dire il mondo dei lavoratori non può dire che fare politica e non lavorare no 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 ma era così me lo chiedevo perché è diventata parlamentare adesso non ha una professione di provenienza perché per sua fortuna una grande famiglia alle spalle ha fatto le scuole importanti e si è dedicata si è dedicata alla politica adesso il tema è che cosa ne farà del pd lo porterà a sinistra su una sinistra radicale più vicino ad un abbraccio con i cinque stelle sarà molto utile da un certo punto di vista ma si scoprirà al centro perderà un pezzo di elettorato che andranno a ingrossare le fila di renzi e calenda quindi tutto da scoprire può essere una sorpresa enorme come una grande delusione per gli elettori che l'hanno scelta che questo ritratto di italo bocchino jasmine cristallo è corretto